Buonasera a tutti, che emozione, non avrei mai immaginato una partecipazione così numerosa, mi scuso per la voce ma vuol dire che ho incontrato tante persone, abbiamo parlato tanto, abbiamo ascoltato la popolazione e siamo scesi proprio nei particolari delle situazioni, delle nostre aree interne, dei nostri comuni e quindi da questi incontri numerosi che ci hanno veramente messo a contatto con tutti e hanno evidenziato problematiche, prospettive e tutto quello che è il lavoro che possiamo fare insieme, credo che questa sera possiamo condividere questo momento anche con grande gioia perché la vostra partecipazione è proprio la dimostrazione che quello che abbiamo fatto questi giorni in questa campagna elettorale è sicuramente di valore. Dai tanti incontri ho avuto modo di scendere nei particolari e capire dov'è che noi potremmo essere importanti e andare a lavorare soprattutto in virtù di quello che è il panorama anche dei fondi e dei finanziamenti che abbiamo adesso in campo. Io innanzitutto volevo fare complimenti al Presidente perché in questi due giorni ha siglato due importanti momenti, il CIPES e oggi addirittura abbiamo avuto lo scorrimento della graduatoria, anzi ieri con delibera, dei fondi di Farecentro. Farecentro è un'opportunità per noi aquilani fondamentale perché abbiamo vissuto il terremoto del 2009 e quindi per far ripartire le attività prima del centro storico dell'Aquila e poi dei comuni del cratere era importante che si facesse questo scorrimento per permettere a tante aziende di ripartire. Delle 49, 23 sono nel comune proprio dell'Aquila, del centro storico e 26 nei comuni del cratere e grazie a questo possiamo dare un'importante spinta all'economia affinché riprenda e affinché possiamo sostenere commercianti e imprenditori che hanno subito veramente tutto il problema del terremoto. Scusate ma la voce mi tradisce. Inoltre io credo che il tema proprio che ci rappresenta di più è proprio quello delle aree interne, lo abbiamo sviscerato e trattato sotto tanti aspetti, la promozione del turismo, i finanziamenti per la montagna, quindi con i lotti per esempio degli impianti di Ovindoli, promozione del turismo attraverso i rifugi. Quindi ecco questo nostro territorio aquilano, diciamo della provincia dell'Aquila e delle aree interne attraverso questo governo potrà avere delle opportunità che fino ad ora non ha mai avuto. Voglio ricordare l'importante patto di coesione che è stato firmato all'Aquila e questo ha sancito un importante punto di connessione. Il governo di Giorgia Meloni ha a cuore il nostro territorio, tant'è vero che lo ha voluto siglare qui e in virtù di questo patto di coesione dei fondi degli FSC potremmo godere di opportunità finanziarie importantissime. Il governo quindi ha dimostrato l'attenzione al nostro territorio e quindi ha creduto in noi ed è pronta accanto a noi a far ripartire tutti i livelli di economia possibili. Quindi diciamo che la mia candidatura sicuramente è di grande responsabilità. Io, consapevole di questo momento anche storico particolare perché siamo la prima forza politica del Paese, mi sento investita di una responsabilità che mi spinge proprio a chiedere quindi a voi, ai miei sostenitori, di scendere in campo in maniera vistosa e forte perché è grazie a voi che noi potremo sicuramente riconfermare il secondo mandato del Presidente Martiglio perché tanto è stato fatto. Però adesso abbiamo l'opportunità di sfruttare al meglio questi fondi, fondi che possono risolvere problematiche e situazioni diverse. Quindi quello che vi chiedo in questo momento è di sostenermi per sostenere il Presidente e riconfermare questo governo fantastico per la provincia dell'Aquila e per la regione Abruzzo. Vi ringrazio perché questa presenza vostra mi sostiene e mi dice che mi sto muovendo nella direzione giusta, con l'impegno giusto e con serietà. Vi ringrazio. Presidente Marzilio, vai girando ovunque, quando finisci stanotte a luna, mezzanotte, quando finisce il tour oggi? Grazie, che bella serata, grazie Tiziana per avermi permesso di stare insieme a te in questa fantastica serata. E sono sicuro che l'Aquila risponderà alla chiamata, che voterà in massa Fratelli d'Italia e che mettendo la preferenza per Tiziana del Beato e Alessandro Piccinini porterà gli aquilani in Consiglio regionale, ma gli aquilani buoni, quelli che se lo meritano, perché bisogna fare in modo che ci sia la classe dirigente seria e non a certa classe dirigente da van spettacolo che per troppo tempo ha caratterizzato e rappresentato male all'Aquila, in regione e nel Parlamento nazionale questa città, che Pierluigi sta rischiattando con la sua squadra e ha dimostrato la capacità di governo che Fratelli d'Italia e il centrodestra sanno esprimere qui in Abruzzo. Sono ore complicate, difficili, era normale aspettarselo che la campagna elettorale sarebbe entrata nel vivo e che magari si sarebbe incattivita e le cattiverie adesso che tutti i media nazionali hanno scoperto che esiste l'Abruzzo e che vengono, tra degli anni Bonelli, Calenda, Renzi, Conte, Schlein, 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 quattro volte, otto volte, sette volte, sempre qui stanno, ben vengano, noi siamo accoglienti, che capiscano, che vengano a capire come funziona l'Abruzzo e quali problemi abbia, fa sempre bene, però appunto leggiamo, adesso mi informano che ormai si stanno scatenando le solite armi, da quelli di Piazza Pulita che ti fanno gli agguati, ti provocano e fanno finta di essere giornalisti e non militanti politici e diffamatori seriali, come è accaduto con il nostro amico Carlo Fidanza, ve lo ricorderete mesi e mesi fa, no? L'inchiestona, hanno distrutto la reputazione di una persona che poi totalmente, rosciolta da ogni accusa. Mi dicono che in questo momento il noto gossipparo Roberto D'Agostino sta dalla Gruber a insultarmi e andrò a vedere poi perché non l'ho manco mai conosciuto quindi non so perché mi debba insultare. Su Repubblica scrivono l'altra novità che apprendo che io non solo ho il grave difetto di essere nato a Roma e di averci ancora una casa, una moglie e una figlia ma che lavoro in smart working da Roma e non sto in Abruzzo. Vi racconto qualche aneddoto, ho visitato tutti e 305 comuni d'Abruzzo e ho scoperto di essere l'unico presidente di regione ad averlo fatto da 50 anni a questa parte. L'ho fatto nonostante che per un paio d'anni il Covid ci ha costretto a stare chiusi nelle case, chiusi dentro gli uffici peraltro io stavo negli uffici al lavoro all'Aquila quando tutti stavano chiusi dentro le case e uscire di casa era pericoloso avevamo tutti paura di quello che sarebbe successo, andavo in ufficio insieme a Etel Sigismondi capo della mia segreteria all'epoca con i guanti fino a qua sul computer con questi guanti era faticosissimo lavorare, spaventare ucchiali, le visiere, quindi abbiamo affrontato. Credo che gli Aquilani possano anche testimoniare che un presidente di regione così presente a Palazzo Silone nella sede del capoluogo regionale si sia visto poco in passato perché altri presidenti hanno fatto altre scelte e trasferito i luoghi della decisione della riunione politica altrove e quando io appunto visitavo i tanti comuni vedo tantissimi sindaci qui presenti e li ringrazio perché abbiamo anche costruito in questi anni una comunità umana oltre che un rapporto istituzionale e mi dicevano ma noi non abbiamo mai visto un presidente qui perché io sono andato anche in quei comuni fatti di poche decine di abitanti, non poche centinaie, poche decine di abitanti e quando andremo a votare peseranno lo 0,01 quindi niente dice ma hai perso tempo, dovevi stare nelle metropoli dove ci sono 30.000, 50.000, 100.000, 150.000 persone a pavoneggiarti, a catturare il voto d'opinione, il voto della massa no io ho pensato che il mio dovere fosse quello di far sentire che la regione c'è che le istituzioni davvero non lasciano nessuno indietro, davvero si occupano di tutti e vanno lì anche per capire, anche con la curiosità dentro che mi appartiene di dire come si vive in un posto del genere, che problemi hanno, come li possiamo risolvere quella legge sullo spopolamento che con Guido Liris in consiglio regionale abbiamo fatto per dare i 2.500 euro a chi nasce, a chi trasferisce la residenza, a chi apre un'attività nei comuni montani hanno funzionato, sono andati a buon fine, stanno producendo un risultato qualche migliaio di abruzzesi hanno trasferito la residenza nei piccoli e piccolissimi comuni a qualche migliaio in questi tre anni di famiglie che hanno fatto nascere lì i loro figli abbiamo dato questo sostegno perché potessero essere aiutati a rimanere lì a non andare tutti dentro le città, a ingolfare le periferie, ad abbandonare i territori noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo fatto un lavoro enorme, abbiamo trovato situazioni indecenti abbiamo fatto diventare l'Abruzzo importante in Italia e nel mondo e quando sfottono o minimizzano o mettono in dubbio l'esistenza e l'utilità della filiera della cosiddetta filiera di cui noi siamo invece orgogliosi e orgogliosi anche della storia e dell'amicizia personale che ci lega a Giorgia e a tutta la squadra di governo che oggi guida l'Italia e la guida a testa alta, in questo momento Giorgia Meloni è a Washington e dopo 24 anni ha riportato a casa Chico Forti, detenuto in Florida da 24 anni che nessun altro governo, nessun altro presidente del Consiglio era riuscito a portare in Italia questa è Giorgia Meloni, questa è Fratelli d'Italia Allora ve la racconto io una storia di filiera per capire che cosa accade a parte il fatto che sembra che gli dia fastidio che nel giro di un paio di settimane abbiamo mobilitato e portato in Abruzzo un paio di miliardi e mezzo di investimenti ma che schifo, era meglio l'Abruzzo che non contava niente e che i soldi non li vedeva e che quando li vedeva non li sapeva usare perché i progetti erano studi di fattibilità sogni, i sogni onirici del grande parolaio che è il vero candidato alla presidenza quale Luciano stanno votando dall'altra parte bisognerebbe chiedersi quale Luciano dà, andrà a comandare e tornerà a fare il padrone della regione Abruzzo non il presidente che valorizza la sua squadra e permette agli assessori di lavorare e di portare il risultato perché da solo non vai da nessuna parte se abbiamo fatto tutte queste cose è perché i miei assessori non dico che hanno avuto la briglia sciolta perché è giusto governare i processi e far rendere conto di questo lavoro ma i miei assessori hanno avuto la mia fiducia sono stati assessori autorevoli che si sono potuti presentare sui territori e tra le categorie e con i sindaci avendo di fronte interlocutori che sapevano di poter dire sì o no perché il loro lavoro sarebbe stato rispettato e valorizzato da me per primo bene allora vicenda filiera la ricostruzione questa città porta ancora i segni del sisma ha vissuto gli anni della ricostruzione con diverse fasi di questa ricostruzione io mi sono ritrovato a un certo punto dopo circa sei mesi, otto mesi in cui avevo vinto le elezioni con 18 punti di vantaggio su Giovanni Legnini mi ritrovo un governo Conte che oggi sta qui e gli dovremmo chiedere conto di questo che prende questa persona che sta in consiglio regionale a fare l'opposizione al presidente Marsilio e la nomina commissario per la ricostruzione cioè me lo mette sopra a me cioè è come se domani Meloni vorrei sapere cosa direbbe Conte se domani Meloni prende Truzzo e lo nomina commissario di qualche cosa in Sardegna di cui la Todde dovrebbe prendere ordini dal Truzzo che ha battuto non 18 punti ma di 0,18 punti potete tutti testimoniare che io non ho reclamato un solo minuto non ho fatto una sola dichiarazione guardate cosa è accaduto a Bonaccini perché aveva la pretesa di nominare il commissario dopo l'alluvione come se fosse una questione solo emiliana romagnola non lo era coinvolgeva Toscana, Marche e altre regioni e la Meloni non è che gli ha messo uno del mio partito uno che gli ha fatto la campagna elettorale contro il capo dell'opposizione in consiglio regionale gli ha mandato il generale Figliolo quello che il governo Draghi di cui Bonaccini era grande sostenitore aveva nominato grande capo commissario della vaccinazione della lotta al Covid quindi una persona al di sopra di ogni sospetto che porta la divisa che rappresenta tutti che è al di sopra delle parti e hanno protestato un mese di polemica il commissario, la democrazia non ci devi calpestare qua mi hanno nominato Legnini commissario bene uno può pensare Legnini è commissario quindi il governo che lo ha nominato lo rispetta farà quello che dice Legnini Legnini è persona intelligente e preparata sapeva quali erano su tante questioni i problemi da superare le leggi che servivano le norme da modificare quando non lo sapeva glielo dicevamo noi con Pierluigi e i suoi uffici con l'ufficio speciale della ricostruzione con Vincenzo Rivera preparavamo le norme preparavamo i documenti in Parlamento ogni due o tre volte l'anno o nella legge di bilancio o nel proroghe o in qualche decreto specifico c'era la possibilità di scrivere le norme di mettere i fondi di permettere che so le assunzioni dei precari negli uffici della ricostruzione dei comuni vero sindaci che ci siete ve lo ricordate questo problema oppure le doppie la conformità edilizia le lievi difformità che bloccano la ricostruzione di interi centri storici perché al Ministero della Cultura pensavano abusivi abusivi non si possono sanare gli abusi e lì a spiegargli guarda che non sono abusi che ne so il cesso fatto nella casa su cui non c'è il catastro perché negli anni 20, 30, 40 in cui questa casa è passata da nonno al bisnonno e così via una volta si faceva la stretta di mano perché la storia di questi territori e di questi luoghi è questa e lì a spiegarglielo pensate che Legnini ci sia riuscito no noi passavamo tutte queste volte a preparare gli emendamenti a farne magari una dozzina per selezionare i più importanti e sperare che te ne approvassero uno magari piccolo piccolo e magari c'era quella regginetta della van spettacolo che stava in Parlamento a fare la vanitosa che tornava all'Aquila sbandierando due righe di emendamento con quattro soldi e mezza norma e dicendo ho fatto questa cosa importante e tutta l'Aquila mi deve volere bene anzi devo fare pure la sindaca contro Biondi è finita come meritava e gli Aquilani gliel'hanno cantata e so che la canteranno anche al Luciano Dà che sta provando a fare la stessa cosa quando quando è arrivato il nuovo governo e ha nominato commissario Guido Castelli con le solide proteste come tanto bravo Legnini si bloccherà la ricostruzione cammina più di prima va più veloce di prima noi ci siamo ritrovati dopo due mesi di vita del governo uno dei primi tre quattro decreti fatti decreti legge fatti dal governo che non era un decreto dove inserisci un articolo e qualche comma sulla ricostruzione era un decreto legge sulla ricostruzione dell'Italia centrale e del sisma Aquilano lo abbiamo praticamente scritto insieme a Palazzo Chigi e ai ministeri alla fine dell'anno arriva la legge di bilancio e quello che non avevamo messo lì dentro che necessitava anno per anno di essere prorogato rivisto rifatto perché ogni anno devi rifinanziare verificare quali misure sono ancora attuali quali bisogna cambiarle e così via l'abbiamo fatto nella legge di bilancio abbiamo passato un paio di giorni con Pierluigi ad andare al MEF a telefonare a mandare le bozze a parlare con i capi di gabinetto a parlare con i ministri competenti con Palazzo Chigi con tutta la struttura di Giorgia con il commissario Castelli all'opera abbiamo scritto insieme le norme è uscita una legge di bilancio non emendamenti scritto nel testo della legge di bilancio quanti erano i commi Pierluigi 35 commi dove dentro c'era tutto tutto quello che serviva i miei uffici mi hanno raccontato questo aneddoto dice Presidente noi una cosa così non l'abbiamo mai vista la sua forza la sua capacità politica di raggiungere il risultato è eccezionale perché? perché sono dieci anni che stiamo dentro questi uffici e sono dieci anni che noi passiamo da Natale a Capodanno giorno e notte tutte le feste appresso alla Commissione parlamentare a cercare l'emendamento a convincere gli uffici la ragioneria la bollinatura questa volta non abbiamo avuto bisogno né di preparare un emendamento né di doverlo abbiamo santificato le feste come era pure giusto che ogni tanto possano fare anche i nostri uffici e i nostri vertici perché qualcuno ha fatto scrivere al governo nella legge di bilancio quello che serviva abbiamo rifinanziato con quel decreto legge la ricostruzione all'Aquila abbiamo permesso di assumere tutti i precari abbiamo anche proprio in questi giorni l'ultimo passaggio mancava un milione e tre per concludere questa operazione ora è tutto sbloccato si può fare abbiamo messo in sicurezza questo percorso e questo marca la differenza che cosa vuol dire perché la filiera è utile perché produce risultati positivi per i cittadini quando si sa usare perché poi appunto come ho detto prima ci sono pure filiere che non funzionano commissari che non vengono ascoltati dai loro ministri succedeva anche nella sanità non è che Luciano D'Alfonso e il suo assessore Paolucci non avessero il ministro a Roma del loro partito con cui parlare ma quando i ministri si chiamavano Lorenzin e poi appresso a loro facevano i decreti sulla rete sanitaria che imponevano di fare un solo DEA di secondo livello in tutta una regione di un milione e duecentomila abitanti due sole emodinamiche perché ce ne vuole una ogni seicentomila si chiudono i punti nascita che fanno meno di cinquecento parti e così seguitando e loro non è che sono riusciti a spiegare al loro ministro guarda che è sbagliato perché in Abruzzo se metti due emodinamiche in mezzo Abruzzo quelli che prendono un infarto muoiono non ci arrivano in tempo a farsi curare a farsi salvare se desertifichiamo i punti nascita e capita come è capitato più volte che l'ospedale di Sulmona almeno una volta all'anno salva una donna in un parto improvviso e difficile e deve andare in un posto dove c'è una ginecologia una sala operatoria e una sala parto attrezzata ecco queste cose noi le abbiamo spiegate io ho provato per almeno due anni a spiegarle al ministro Speranza del PD che non ci sentiva e non ci approvava la rete quando è arrivato Schillaci con il governo Meloni ci hanno approvato una rete che è rivoluzionaria che afferma i diritti di tutti i cittadini abruzzesi alla salute e permette di fare una rete e oltretutto ha permesso di liberare mezzo miliardo che stavano fermi da 25 anni a Roma per rifare gli ospedali e per portare un'edilizia sanitaria di qualità sono i soldi con cui abbiamo sbloccato la centrale del 118 all'Aquila che è già in costruzione con i quali abbiamo fatto il Delta Medico con il quale abbiamo fatto il G8 io lo so che qualche sciacallo scellerato continua a girare per l'Aquila in cerca di gloria pensando che gli aquilani siano fessi raccontandogli che noi abbiamo abbandonato l'Aquila perché abbiamo fatto l'ospedale Covid a Pescara un modello peraltro ma noi prima di fare l'ospedale Covid a Pescara avevamo già fatto il G8 all'Aquila questo non lo dicono mai e il G8 che doveva essere demolito e al posto suo farci un parcheggio ci è bastato fare una veloce ristrutturazione accendere la luce e portarci dentro i ventilatori e i macchinari per le terapie intensive e nel giro di pochi giorni era attivo e salvava gli abruzzesi di Pescara e dell'Aquila come viceversa a Pescara abbiamo salvato Aguilani e Pescaresi perché quando girava il picco di volta in volta c'era un'area che andava in saturazione e bisognava portare i malati altrove e abbiamo garantito la salute a tutti e abbiamo fatto alla fine di questo percorso 16 posti di terapia intensiva in più nell'Asre dell'Aquila 16 a Pescara 16 a Teramo e 18 a Chiedi perché a Chiedi ci sono 80.000 abitanti in più non perché Chiedi sia privilegiato abbiamo rispettato gli equilibri abbiamo fatto sintesi di tutto l'Abruzzo abbiamo fatto finire le guerre di Campanile abbiamo fatto le scelte che servivano a far crescere tutto l'Abruzzo e non una parte contro l'altra per questo io chiedo ed è l'ultimo appello che faccio a Tiziana ad Alessandro fate bene ad essere orgogliosi della vostra aquilanità e a chiedere alla vostra città e al vostro territorio di sostenervi con vigore ma ricordatevi che il giorno dopo voi siete consiglieri regionali e dovete interpretare il vostro ruolo per il bene di tutto l'Abruzzo non solo della vostra città e neanche solo della vostra provincia dobbiamo anzi abolire questa lotta sorda che ha sempre indebolito la nostra terra perché siamo troppo pochi per dividerci perché quando ci confrontiamo a Roma con le altre regioni quando vado a Bruxelles a confrontarmi con le 27 nazioni e le 500 regioni d'Europa se ci vado con una terra divisa non porto a casa niente dobbiamo essere più forti e più uniti e dobbiamo continuare a lavorare per costruire questo grande Abruzzo e lo voglio fare insieme a tutti voi grazie bene chiamerei gli interventi Alessandro Piccinini che è un altro che va in prima linea quindi prima i candidati che vanno girando e devo dire che c'è un bellissimo clima di par play io che sto facendo un po' tutta la campagna a loro fianco noto sempre quando c'è un evento di Tiziana Alessandro è sempre intervenuto e viceversa quindi una cavalleria e un'amicizia veramente non di facciata complimenti ragazzi grazie io non voglio rubare la scena a Tiziana ovviamente questa è la sua serata farò un saluto veramente sintetico solo una l'occasione per poter abbracciare idealmente tutti quanti voi in questo percorso così così faticoso così lungo vedervi qui tutte le persone i sostenitori gli amici gli amministratori che ci hanno accompagnato in tutte le nostre tappe da Possa a Scoppito a qui stasera è bellissimo veramente ci ripaga diciamo della stanchezza e della fatica è stato un percorso dove abbiamo impegnato il nostro tempo per cercare di andare in ogni frazione in ogni territorio per farci guardare in faccia per far capire l'importanza del lavoro fatto in questi cinque anni da Marco Marsilio e da tutta la squadra che lo ha accompagnato e la necessità di dover rinnovare questi cinque anni per completare i progetti ambiziosi che la regione Abruzzo sta portando avanti si sono aggrappati a una fibrillazione nata in una regione lontana chilometri e chilometri da qui per potersi rianimare perché erano totalmente cotti e si sa adesso c'è questo clamore mediatico che stanno intervenendo tutti l'ultima che ho letto Nichi Vendola al boss sabato proprio sono arrivati proprio al folklore ormai stanno veramente riesumando i cadaveri su queste cose ma e questo ci deve far capire che tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi ovviamente non sarà vanificato perché la gente ci ha ascoltato lo ha metabolizzato ha capito quanto abbiamo impegnato in questi cinque anni l'importanza del lavoro fatto quindi non gli basterà questa suggestione per recuperare tutto il terreno perso tra sette giorni otto giorni Marco si sveglieranno tutti sudati e capiranno che in realtà è stata solo un'illusione a cui si sono appigliati e questo riporterà anche una centralità per quella che è l'azione del nostro premier e del governo che sta portando avanti per cui uniti e compatti marciamo fino alla fine vi chiedo quest'ultimo sforzo l'ho detto in tanti appuntamenti comportatevi non come dei sostenitori ma come se fosse voi stessi candidati al nostro fianco per poter convincere una persona di più ogni giorno questo ci porterà a una vittoria certa e sicura questa riporterà l'Abruzzo in mani sicure grazie e vi lascio vi saluto perché anche Alessandro e vi lascio con due appuntamenti martedì con Giorgia Meloni e tutti i leader del centrodestra a Pescara Piazza Salotto alle ore 18 vi aspettiamo in tanti e io concluderò la campagna elettorale con tutta la coalizione qui all'Aquila venerdì 8 davanti all'emiciclo vi aspetto in piazza chiedo scusa se non potrò attrattenermi perché gli appuntamenti della campagna elettorale sono impellenti purtroppo io ho un'altra cena quindi dovrò comunque lasciarvi e salutarvi anche noi faremo un evento il 6 con il sottosegretario della giustizia del Mastro ho riunito tutti i più importanti autorevoli esponenti del territorio della giustizia in una tavola rotonda e il 7 faremo una chiusura della campagna elettorale a Paganica nella tenso struttura della Paganica Regdi quindi vi aspetteremo lì per l'ultimo appuntamento grazie bene grazie andiamo a concludere qui c'è una platea di scaletta che mi hanno fatto questo trappolone cioè solo Fausta Bergamotto sottosegretario De Blasis Biondi sindaco quante cose vorrebbero raccontare ma non lo dico di facciata è la prima volta nella storia Fabio Roscani che abbiamo tante cariche a sedere che avremmo una scaletta che salterebbe ma che non racconterebbero cose fittizie cioè pensiamo a chi sta al Mise le crisi industriali chi sta al Parlamento Europeo ecco io da quando voto non ho visto mai un Europarlamentare all'Aquila ricordo la Marinucci così nelle cronache per cui ecco per dire quanto è forte Fratelli d'Italia però dobbiamo concludere anche perché Vito Colonna che è un gerarca militare mi ha detto quando parla l'ultimo buttiamo la pasta quindi si gismon di Etel hai quest'onere 11 minuti massimo neanche perché la pasta vorrebbe pure essere una pasta che cuoce velocemente quindi stai attento e il senatore regionale e il senatore che lancia la chiusura grazie Etel buonasera grazie grazie a te Vincenzo grazie a tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia grazie a Tiziana grazie ad Alessandro Vincenzo posso ringraziarti pubblicamente perché quando insomma bisogna presentare le liste c'è una persona che ci dà sempre una mano fondamentale ed è Vincenzo che anche questa volta ha fatto sentire il suo contributo fondamentale farei un grande applauso io cercherò di essere breve veramente però voglio dire il Presidente si è arrabbiato un po' con questo centrosinistra a me il centrosinistra in realtà mi fa un po' pena perché poveracci hanno iniziato ad attaccare il Marsilio con le liste d'attesa che erano molto lunghe poi si sono accorto che le loro liste d'attesa erano più lunghe di quelle che ha lasciato Marsilio e loro non hanno avuto il Covid poi hanno iniziato ad attaccare il Presidente Marsilio dicendo che era stato finanziato alcune somme fondamentali e l'altro giorno sono arrivate a un certo punto si sono riuniti d'Alfonso d'Alessandro Sottanelli Fine eccetera eccetera e hanno deciso di iniziare a parlare di un argomento che interessa molto agli abruzzesi ed è la Sardegna e allora se loro vogliono parlare della Sardegna siamo noi ad occuparci a parlare dell'Abruzzo perché questa è la differenza tra noi e loro loro vanno avanti con le bugie noi andiamo avanti con i fatti perché questa è la realtà adesso si sono accorti che D'Amico e c'ha ragione il Presidente Marsilio che non si capisce se quel Luciano D'A è Luciano D'Amico e Luciano D'Alfonso perché il vero candidato del centro-sinistra che si sappia è Luciano D'Alfonso basta con un Luciano alla guida della regione Abruzzo e tant'è che nelle ultime ore ci sono accorti che anche questo D'Amico un candidato messo lì per caso perché il centro-sinistra nessun partito ci ha voluto mettere la faccia nessun partito si è voluto intestare la candidatura perché sanno che al di là dei sondaggi che inventano il Presidente Marsilio è abbondantemente in vantaggio ma non lo dicono i sondaggi lo dicono delle sale piene come queste e quindi come dire hanno trovato chi sacrificare chi mettere lì lo vedete faccia a faccia con Marsilio tutto ripiegato si sente neanche quello che dice perché parla a bassa voce e adesso per il comizio finale che cosa si sono inventati che sostituiscono il Presidente il candidato Presidente D'Amico e portano il Presidente della Sardegna quindi voglio dire ormai dobbiamo votare la Sardegna ci occuperemo dei collegamenti Olbia e l'Italia insomma questa è la situazione e allora cari amici il 10 marzo c'è la necessità di c'è necessità di dare sicuramente un segnale importante perché la scelta è se continuare ad andare avanti tra la crescita del Presidente Marsilio oppure tornare indietro a quando l'Abruzzo non contava nulla io sono convinto che il 10 marzo l'Abruzzo sceglierà Marco Marsilio sceglierà Fratelli d'Italia e soprattutto sceglierà una candidata brava competente una persona che si è fatta da solo e che nella pubblica amministrazione ha dato tanto all'Aquila e darà tanto alla regione Abruzzo come Tiziana del Beato Tiziana grazie per l'invito grazie a tutti voi andiamo a votare votiamo Fratelli d'Italia votiamo Marco Marsilio grazie a Tiziana bene abbiamo chiuso Tiziana se vuoi ringraziare tu non rubo la scena un piccolo buffet comunicazione di servizio allora innanzitutto grazie per la pazienza perché poi gli interventi diventano sempre più lunghi di come si prevede vogliamo festeggiare con voi questa serata e c'è un buffet un conviviale quindi vi prego di accomodarvi dall'altra parte della sala e buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.